Con questo quattro video riprendiamo le esercitazioni legate agli incontri online del 13 e del 20 dicembre incentrati sulla costruzione di documenti scolastici che siano leggibili, sfogliabili e che abbiano alcune caratteristiche per facilitarne la ricerca, lo studio e quant'altro. Abbiamo già affrontato i passaggi relativi a Word e a LibreOffice Writer vediamo adesso invece come occorre agire con Google Documents L'obiettivo di questo video è ricordare come si struttura un testo con Document iniziando proprio sulla marcatura delle parti del documento stesso in particolare i titoli di vario livello Ci avvaliamo ancora di un buon documento del Ministero che abbiamo preso un po' come stimolo utile che è il documento redatto dalla Commissione Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi per l'Infanzia Come abbiamo visto già con i precedenti video il documento è un documento sicuramente ben strutturato e lo capiamo bene dall'indice dove sono messi in evidenza i titoli di primo livello che sono i vari capitoli dall'1 al 5 poi un appendice su una discussione aperta sullo curriculum e la progettazione e direi anche la premessa può essere considerato al pari dei capitoli un titolo 1 Ogni capitolo poi contiene al proprio interno dei sottelementi che gerarchicamente sono proprio di un livello minore rispetto a quello che sta un po' sopra o il papà Sono un po' dei figli e delle figlie Per quello che riguarda il capitolo 1 abbiamo sei elementi che saranno quindi marcati con un grado di parentela appena inferiore rispetto a quello attribuito come titolo 1 e quindi saranno titoli 2 Lo stesso il secondo capitolo sarà un titolo 1 in quanto nella gerarchia è un fratello del primo capitolo e al suo interno contiene 9 elementi che saranno marcati come titolo 2 Lo stesso similmente per il capitolo 3 e per il capitolo 4 invece vediamo una novità Accanto ai figli e quindi ai titoli 2 che sono chi opera nei servizi educativi è una professione riflessiva lavorare con i bambini eccetera vediamo la presenza di elementi sottoordinati In particolare il titolo 2 una professione riflessiva ha il proprio interno come elementi osservare e ascoltare progettare documentare valutare che quindi occuperanno un gradino inferiore nella scala gerarchica dei titoli e se una professione riflessiva era titolo 2 osservare e ascoltare progettare documentare valutare saranno marcati come titolo 3 Lo stesso lavorare con i bambini è un titolo 2 che è figlio della professionalità educativa titolo 1 al proprio interno ci sono degli elementi sottoordinati che sono il gesto educativo eccetera 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 e saranno titoli 3 In realtà anche il titolo 2 che opera nei servizi al proprio interno è strutturato per sotto elementi che sono poi le varie figure adesso non so se sono state volutamente omesse o dimenticate noi visto che prendiamo spunto da questo documento per fare l'esercitazione andremo a marcare anch'essi come titoli 3 in quanto figli di chi opera nei servizi educativi che è titolo 2 bene per fare questo prendiamo un estratto del documento in particolare questo capitolo 4 fino a osservare e ascoltare come abbiamo visto precedentemente esistono degli ambienti online che consentono comunque di esportare di convertire meglio un documento pdf in vari formati ad esempio doc piuttosto che odt forse il più utilizzato è il love pdf bene ma noi adesso ci occupiamo invece di fare una semplice estrazione con un copia e incolla vado a pagina 28 e mi prendo il capitolo 4 quello sulla professionalità educativa fino alla progettazione esclusa ok eccola tasto destro copia piuttosto che ctrl c e apro il mio documento nuovo in drive documenti google ctrl v copio incollo scusate come vedete è stato incollato tutto senza formatazione o meglio con lo stile di default che vediamo sotto il menu che è testo normale vedete bene allora cominciamo a prendere confidenza con la struttura dei documenti in documenti in google documenti e utilizzando quindi alcuni menu un menu in particolare che è il menu formato che al proprio interno contiene gli stili di paragrafo notiamo che abbiamo testo normale poi titolo e sottotitolo che in realtà sono un pochettino avulsi dalla struttura proprio del documento col suo contenuto sono qualcosa che ne fa da cornice e poi abbiamo intestazione 1 2 3 4 5 6 che sono gli equivalenti di titolo 1 2 3 4 di word e di writer si chiamano così nella traduzione di google documenti scusate bene e partiamo adesso prendendo in considerazione un no andiamo in alto scusate ecco un primo paragrafo quello sotto la professionalità educativa e usiamo come metodo l'intervento diretto sulle porzioni di testo in modo di associare lo stile a quello che è poi lo stile complessivo del documento quindi mi occupo adesso di un paragrafo specifico e al pari di quello fatto di quanto fatto con word e con writer diciamo che lo vogliamo poniamo in arial anzi in verdana scusate e con una particolare anche interlinea interlinea e spaziatura sopra e sotto il paragrafo in modo da distanziare i paragrafi che abbiamo visto sono all'interno di un documento le unità logiche che in pratica ci consentono di favorire la leggibilità di testi anche lunghi creando un po' di respiro nella lettura ricordo ancora che il paragrafo non vuol dire tutto quello che è dentro prima di un punto ma può contenere al proprio interno anche più frasi se no diventerebbe invece che un'aiuta a volte una difficoltà di lettura perché sarebbe molto molto dispersivo bene andiamo un po' come si fa andiamo in formato interlinea spaziatura paragrafo e spaziatura personalizzata il programma mi dà di default in automatico già una buona interlinea che è l'1.15 noi sia per esercizio sia per uniformità con quanto abbiamo visto prima facciamo l'1.20 poi mettiamo 6 punti prima e 6 punti dopo come abbiamo fatto con gli altri editor applica vedete che il nostro paragrafo ha acquisito se vogliamo una forma un po' diversa c'è una maggiore interlinea tra le righe e c'è un po' spezzata la lettura a respiro si usa dire però abbiamo visto che coinvolge soltanto questa prima parte come facciamo a fare in modo che tutto il testo che ha sempre lo stile testo normale acquisisca questo modifica dobbiamo fare in modo che lo stile testo normale abbia quelle stesse caratteristiche un modo semplice che peraltro è presente anche in Word consiste in far questo selezioniamo il paragrafo che abbiamo modificato andiamo in formato stili paragrafo cerchiamo testo normale e vedete scegliamo la seconda voce aggiorna testo normale perché corrisponda e vedete che in un colpo solo tutto il documento è stato così stilizzato nel modo voluto è una cosa molto importante molto utile questo è un po' quello che consiglierei come primo passo poi se uno usa dei modelli magari ha già tutto preimpostato ma questo comincia un po' ad aiutarci purtroppo non abbiamo in google documenti quel aiuto che ci dava quella iconcina che potevamo accendere e spegnere diciamo come fosse un interruttore mostra nasconde il testo nascosto in realtà c'è un componente aggiuntivo che si chiama show mostra solo che non funziona ancora benissimo l'ho visto anche nei forum nel senso che tu devi installarlo ogni volta che tu lo gestisci in un documento non rimane ancora fisso speriamo che aggiornino un pochettino questa utile estensione e quindi non lo vediamo però capiamo capiamo che capitolo 4 e la società educativa ad esempio sono come due paragrafi distinti invece deve essere tutto insieme potrebbe essere o attaccato oppure potrebbe essere in due righe separate come ha fatto in questo caso questo documento solo che facendo l'invio creo un nuovo paragrafo lo vedo ancora in un altro modo do un elemento di stile legato al paragrafo vado con il mouse dentro capitolo 4 e faccio centrato poniamo vedete che si centra solo capitolo 4 e non la personalità educativa cosa vuol dire vuol dire che sono due paragrafi distinti come si fa allora per andare a capo mantenendomi nel paragrafo come con gli altri laboratori dei testi si usa la combinazione di tasti che è shift invio shift ricordo è quella freccia in alto vedete che in questo caso è stato coerente e me l'ha centrato riconoscendo la pertenenza al sesso paragrafo adesso vado di nuovo a mettere sulla sinistra così per scelta un'altra piccola scelta che noi avevamo messo in atto era quello di utilizzare in maniera molto parsimoniosa le maiuscole in accordo un po' con gli studi del quel grande usabilista Jacob Nielsen che diceva che è la lettura delle lettere maiuscole è più faticose per diciamo un cittadino da una certa età in poi non che sta imparando ancora a scrivere e quindi andiamo a vedere un po' come si fa a mettere in minuscolo così ne approfittiamo per conoscere meglio alcuni menu interessanti e Google Documenti così come Librofis Writer ha proprio nei menu questa possibilità ad esempio tutto con iniziare maiuscola possibilità educativa però ovviamente non è un nome proprio non è neanche un titolo e non deve quindi iniziare con la maiuscola come si fa alternativamente io posso fare ancora in minuscolo andando in formato testo no scusate così era sì testo maiuscole poi minuscole oppure avevamo già visto degli altri Shift F3 che è un altro ecco Shift F3 però io qui non lo so azionare Shift F3 no scusate ancora devo sempre fare poi ogni tanto in alcuni passaggi un errore Shift F3 non me lo prende ecco funziona con gli altri ma non evidentemente con documenti bene e quindi non ha questa combinazione di tasto l'abbiamo visto insieme molte cose si imparano anche sperimentando e facendo e allora ritorno a fare con il mio testo maiuscole minuscole avete visto è questo momento un po' di incertezza molto interessante se pensiamo a volte anche ai nostri studenti cosa può generare se si è accolto e si è sbagliato qualcosa proprio come serenità nella conduzione magari di una prova o di un esercizio e anche qui non ho preso un po' della confusione mi sono messo a fare un invio non necessario adesso però torniamo al documento abbiamo realizzato il primo passaggio togliamo la numerazione delle pagine che nel copia e incolla era stata portata dietro ok e adesso andiamo a strutturare per titoli capitolo 4 la professionalità educativa se noi vogliamo far poca fatica formato stili paragrafo intestazione 1 però metto lo stile che era lo stile di default di documenti se io volessi invece personalizzarlo uso la stessa tecnica che ho usato prima e cioè modifico diciamo in diretta il testo e poi dico lo associo allo stile quindi poniamo di mettere i titoli in Georgia magari in blu senza grassetto magari 16 magari con un bordo stili paragrafo bordo e obreggiatura colore bordo ancora lo stesso blu lo mettiamo solo sotto applica ok questo ci servirà anche per tutti i prossimi paragrafi marcati intestazione 1 se solo se io lo associo allo stile di paragrafo intestazione 1 ok fatto adesso faccio analogo per gli che operi in servizi educativi inizio subito a decidere come lo voglio lo voglio in Georgia lo voglio blu lo voglio quell'altro cos'era 16 facciamo non so 14 poniamo magari troppo poi cambiate voi ok fatto dovrò dirgli però attenzione metti queste informazioni tutte dentro al tuo stile intestazione 2 gli educatori facciamo anche qui Georgia che ormai abbiamo compreso l'operazione finisce per essere abbastanza ripetitiva 12 aveva scelto il corsivo a me non piace tanto il corsivo nei titoli però se uno lo vuole lo mette qua così e poi strumenti no strumenti no formato stili paragrafo intestazione 3 aggiorna adesso li abbiamo i titoli 1 2 3 tutti diciamo stilizzati poi possiamo andare ancora nel più nel sottile modificando ad esempio lo spazio primo sotto per distanziare ma qui ci porterebbe un po' lontano adesso il nostro scopo era un altro adesso gli educatori li abbiamo messi titolo 3 le altre figure professionali devo rifare il giochetto metto Georgia no perché ho già assegnato lo stile precedentemente vedete che arriva esattamente nella modalità prescelta e ormai abbiamo quasi terminato diventa tutto velocissimo intestazione 2 osservare intestazione 3 formato stili paragrafo intestazione non l'ho fatta scusate intestazione 3 ok fatto tutto adesso abbiamo il nostro documento strutturato se clicchiamo sulla sinistra lo vediamo bene e creiamoci il nostro indice lui in automatico me lo fa già a titolo 2 io ringrazio se no avrei dovuto poi assegnarglielo dove è il sommario non me lo ricordo dico la verità lo cerco insieme a voi eccolo qua inserimento inserisci sommario fatto ecco è ricomparso qua però indice se io vediamo adesso cosa faccio proviamo a dargli lo stile adesso vediamo se riusciamo formato stili paragrafo intestazione 1 no non mi piace torniamo indietro direi che lo possiamo togliere perfetto perfetto perché l'avevo già scritto prima tolgo anche qua uno spazio inutile non me lo consente fatto tornando indietro sì qui ho degli spazi vedete che purtroppo l'assenza di quel elemento era un po' una perdita non avere il mostra e nasconde carattere nascosto bene abbiamo direi completato il nostro documento strutturato con l'indice già realizzato in automatico lo salviamo chiamiamolo pure e lui prende in automatico la prima parola che trova lo chiamiamo capitolo 4 e prova con documenti ok adesso fatto questo dobbiamo vedere come trasformarlo in pdf bene documenti google non ha il salvataggio diretto come pdf ma la possibilità di scaricarlo come pdf facciamolo vediamo ecco sta facendo la scansione eccolo qua vedete che è perfettamente linkato il sommario è navigabile così come ci raccomandavano le prime linee guide sui documenti accessibili vediamo se vediamo i segnalibri non li vediamo perché perché google documenti nella sua versione non so se ci sono estensioni che lo consentono non produce il pdf con i segnalibri e allora dobbiamo rinunciare? no come possiamo fare in modo di mantenere questo? facciamo un passaggio in due momenti questo però occorre la presenza di Microsoft Word perché? perché ho provato anche a fare uno scarico scaricarlo come ODT che è open source no? ma non funziona il mantenimento dei titoli purtroppo cioè chissà che domani risolvano questo oppure magari esiste un'estensione che lo fa non lo so e men che meno i segnalibri allora andiamo a fare una uno scaricamento come DOCS e facciamo il passaggio poi da Microsoft Word per la creazione del pdf con i suoi segnalibri vedete che non lo tocco il documento eh sì non lo salviamo come Word lo salviamo come pdf salva esiste no? prima facciamo altre opzioni e andiamo a controllare che il pdf abbia i segnalibri utilizzando intestazione attivo fatto sì lo salviamo lo sovrascriviamo all'altro e vedete che sono ricomparsi quei bei elementi sulla sinistra che in pratica è il sommario navigabile sempre presente molto molto utile e ho 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 Grazie a tutti.